Oggi sono a Bogliasco, una perla della Liguria, per provare un gommone che è stato costruito a Soverato, una perla della Calabria. La Ranieri International produce 35 diversi modelli di imbarcazioni. Solo i più grandi cantieri del mondo possono permettersi di avere una gamma così vasta. Ebbene, negli ultimi due anni hanno deciso di ampliarla con una decina di gommoni. Questo è il modello più grande, lungo 9 metri, equivalenti a 31 piedi. Per questo lo hanno chiamato Cayman 31 Sport Touring. Nel catalogo di Ranieri ci sono gommoni denominati Sport che hanno l'indole sportiva e quelli chiamati Sport Touring che hanno una comodità in più, la cabina. Ma con due motori da 300 cavalli è sicuramente super sportivo. All'uscita dal porto di Bogliasco le acque sono immobili, ma soffia il maestrale, molto forte, e mano a mano che ci allontaneremo dalla costa, vedrete che produrrà degli effetti. Wow! Sento l'elica uscire fuori! 50 nodi! La postazione di comando è molto comoda perché l'appoggiareni è anatomico. Timone e comandi sono alla giusta altezza e la pedana a puntapiedi mi permette di trovare la migliore posizione per la guida sportiva. Quello che non mi piace è la posizione degli strumenti. Sono troppo distanti, leggo bene la lancetta, ma non il display sotto il quadro. Li vorrei più vicini, qui, al posto della radio. Quando si osserva una barca o un gommone bisogna badare, oltre alla bellezza, alla funzione. Ad esempio, il pozzetto è molto versatile, ci si può sedere attorno al tavolo per brindare, pranzare, giocare, e volendo diventa un prendisole. Per non farvi mancare proprio nulla, a bordo c'è un mobile cucina da attrezzare con lavello, frigo e, perché no, il barbecue. A prua si sta comodissimi, c'è un prendisole per tutta la famiglia. Le imbottiture sono di PVC espanso, a cellula chiusa, un materiale che non assorbe l'umidità. Lo stampo di coperta è un elemento ininterrotto, senza aperture. In questo modo, un'eventuale falla in carena non porta acqua nel pozzetto, e lo scafo continua a galleggiare, anche perché a poppa ci sono volumi scatolati stagni e, a centro scafo, altri volumi riempiti di poliuretano espanso, che aumentano la riserva di galleggiamento. Se aggiungiamo i tubolari, possiamo considerarlo inaffondabile. Questi metodi costruttivi offrono inoltre gavoni puliti e lucenti. Il serbatoio dell'acqua è controstampato, così non si fora. Il serbatoio del carburante è inserito in un vano anch'esso controstampato, così eventuali perdite restano contenute. Insomma, è progettato e costruito a dovere. E adesso lo proviamo. Questi motori sono gli unici con un compressore volumetrico. Lo sentite? Mi piace tenerli a questo regime, a 2200 giri minuto, perché è qui, in questa fase, che sta tentando di entrare in azione. E rombano, rombano per avvisarci che sono cattivi, molto cattivi. Un colpo di gas e lo scafo è in planata, anche perché entra in assetto a una velocità bassissima, addirittura inferiore ai 10 nodi. E questo ci fa capire che il bilanciamento dei pesi è veramente giusto. Ma questi fuori bordo sanno essere anche molto dolci, se si sa dosare con attenzione il gas. Un comportamento che dovremmo sempre avere se a bordo abbiamo parecchie persone, non riusciamo a controllarle tutte con gli occhi. Quindi, meglio trattarle con delicatezza. Qui il vento comincia a farsi sentire. Le onde hanno delle creste schiumose. Non sarà facile. E sicuramente prenderò qualche schizzo. È inevitabile col maestrale così teso. Questo binomio gommone motori è particolarmente azzeccato, perché anche la carena di questo Cayman 31 Sport Touring è dolce. Passa sulle onde in maniera molto morbida. Non le schiaffeggia. A 3500 giri la velocità di crociera è già di 30 nodi. Ho alzato un po' il trim. Sia perché con questo tipo di venta e di onda è preferibile sollevare la prua per avere meno schizzi addosso, sia perché all'aumentare della velocità lo scappo tende a ridurre il suo angolo di incidenza. E quindi un buon pilota lo corregge. E lo riporta con la prua alta di 3-4 gradi. Ora, una delle cose che dobbiamo verificare è se anche il setup è quello corretto, perché questi motori sono in grado di arrivare a 6400 giri minuto e voglio vedere se li prenderanno tutti. intanto siamo a 4800 giri minuto. A 40 nodi. La costa Ligure corre terribilmente veloce. No, siamo noi che corriamo veloci. Sento l'elica uscire fuori. e siamo a 50 nodi. Non ha perso la sua caratteristica fondamentale, la morbidezza sull'onda. E anche la tenuta di rotta è perfetta. Adesso offrirò il fianco al vento. Magari mi laverò, ma voglio capire in virata cosa succede. Non succede nulla. Perfetto. In questa direzione è andata molto bene. Nell'altra spero che il parabrezza mi aiuti. È molto grande. Il tubolare si appoggia sull'acqua nella maniera giusta. Non affonda troppo e comunque mantiene un contatto costante che è proprio quello che serve per stabilizzare il gommone. Il sole sta calando. Sono arrivato a Genova. È l'ora di andare a cena. Mi attende un buon piatto di troffiette al pesto. E per quanto riguarda questo test? Beh, è un gran gommone. Non solo per le dimensioni, ma anche per le sue prestazioni e per il modo in cui naviga. Putta la pasta!